parliamo di embriologia la disciplina cenerentola di tutte le discipline di base in ambito sanitario che viene insegnata per di più in un modo molto meccanicistico come una consecuzione di fatti una crescita da questo nasce questo che poi diventa questo che poi si sposta di là che poi va di là e che poi gira e si ribalta tutto questo è il modo di insegnare l'embreologia come la troviamo sui libri una cosa che non viene mai affrontata sono i primi otto giorni dalla fecondazione nella fase pre-embreonaria è lì che invece si vede la nascita la genesi dell'informazione la genesi dell'informazione che diventerà coscienza che diventerà consapevolezza che diventerà significato ovvero nella prima settimana vedremo il processo di ominazione se sei interessato ai nostri corsi di embriologia vai sul sito www.ifron.it grazie a tutti